È stato presentato il nuovo progetto di riqualificazione dell'albergo di Campo Imperatore che ospitò Mussolini. Il cantiere potrà partire nella prossima primavera. La vicenda è emblematica nell'ambito della ricostruzione dei beni pubblici. Anni fa il Comune infatti fece un accordo con il Provveditorato per Repubbliche per ristrutturare l'albergo. Fu una scelta infelice, ha ricordato il Sindaco Pierluigi Biondi, senza nulla togliere alla bravura dei tecnici. Ma la buona notizia è che finalmente le cose hanno subito una grande accelerazione. L'opera è così tornata in capo al Comune dopo i ritardi accumulati. Il primo progetto da 3 milioni di euro era stato annunciato ad ottobre 2018, ma si arenò, come tutti ricorderanno. L'importo del progetto totale è di 3 milioni 800 mila euro. I tempi stimati sono per il marzo del 2022, naturalmente condizioni meteorologiche permettendo e dopodiché dovremo attendere il pezzo finale, che sono i lavori veri e propri, per cui abbiamo stimato un periodo di 540 giorni. Quindi al netto di sorprese non auspicate e non auspicabili, credo che entro il 2024 gli Aquilani e non soltanto possano riavere questo pezzo di storia monumentale e anche fisico che ha segnato uno degli episodi più importanti della storia recente dell'Europa. La ristrutturazione dell'albergo porterà benefici a tutta la zona, hanno detto l'amministratore del centro turistico Dino Pignatelli e il vice sindaco Raffaele Daniele. L'architetto Roberto Evangelisti che è RUP è entrato nel merito del progetto. Ci sarà una spa con piscina a piano terra che è stata un po' rivista rispetto al progetto iniziale. Anche i piani superiori sono stati un po' ridisegnati, sarà recuperata la sala lettura. Ci sarà ovviamente anche un adeguamento sismico importante senza però toccare la memoria storica dell'albergo. L'intervento è volto in primis a recuperare le caratteristiche architettoniche del bene che come sapete è anche un bene tutelato dalla superintendenza e quindi è un bene di pregio e quindi a tal fine saranno eliminati tutti quegli interventi, diciamo quelle sovrastrutture inserite nel corso degli anni per ripristinare appunto quelle che erano le caratteristiche originarie. C'è una grande attenzione alla tutela del bene oltre che alla parte diciamo di adeguamento. Pignatelli ha aggiunto altri particolari poi sul bacino sciistico annunciando che per il collegamento si è chiesto di iniziare non da Monte Cristo ma di spostarsi con una telecabina dalla fossa di Paganica alla Scindarella per avviare la stazione e ampliare il bacino sciistico. Con questa possibilità una doppia funzione che è stata accettata, ha detto l'amministratore. Poi bisognerà arrivare su Monte Cristo Superiore ed è importante non solo per l'inverno per consentire l'accesso in quota a chi usa l'impianta a fune che occuperebbe solo un basamento senza interrompere il percorso degli animali.